Ti piace arricciare i capelli e creare onde perfette? Potresti impiegarci una mattinata intera, è complicato, è difficile e il risultato potrebbe comunque deluderti. Potresti rivolgerti a un salone di bellezza, ma al tempo e ai soldi non ci pensi e allora finisci per rinunciare a ravvivare quel tuo stile un po' noioso. Ma ora basta! Creare fantastiche onde oggi è diventato molto più semplice e veloce. Ti presentiamo Vellform Tree Wave Curler, il modo più veloce per ottenere le acconciature perfette delle star a casa tua e in pochi minuti. Tree Wave Curler è tre volte più rapido delle piastre normali, tre volte più rapido, il che ti consente di risparmiare tempo nelle tue mattinate così impegnate. Il suo design a tre cilindri è adatto a qualsiasi lunghezza e ti consente di creare un incredibile look da star o uno più disinvolto da spiaggia. Provare a ottenere l'acconciatura desiderata con una piastra o un solo cilindro è difficile e impegnativo. Devi ruotare la ciocca nel modo corretto. Vellform Tree Wave Curler è invece semplice e molto veloce da usare. Basta stringere e lasciare la presa. Improvvisamente vedrai comparire non una ma ben tre onde lisce perfette. Potrai sfoggiare acconciature degne di un set fotografico senza l'aiuto del parrucchiere. Hai un taglio più corto? Vellform Tree Wave Curler ti offre la possibilità di controllare la temperatura. È perfetto per qualsiasi lunghezza e tipo di capello. Scegli la temperatura più alta per capelli spessi e quella più bassa per capelli sottili e morbidi. Presenta inoltre punte a termiche per la massima sicurezza e una staffa su cui appoggiarlo per proteggere le superfici dal calore. Diventerà il tuo strumento per acconciatura preferito perché ti consente di creare infiniti look, onde naturali, caschetto divertente e frizzante, stile sexy da spiaggia, onde perfette come una star di Hollywood. Vellform Tree Wave Curler ti dà la possibilità di creare il tuo stile preferito per qualsiasi occasione, in modo incredibilmente veloce. Inclusa nel prezzo, trovi anche questa custodia da viaggio resistente al calore per acconciature sensazionali anche fuori casa. Vellform Tree Wave Curler, il modo più veloce per ottenere le acconciature perfette delle star a casa tua e in pochi minuti.